E di solo due anni fa la clamorosa notizia di una prima immagine, una sorta di fotografia scattata ad un buco nero, era un'immagine straordinaria per tantissime ragioni, sia per la realtà che ci restituiva, che ci faceva vedere per la prima volta, sia per la complessità tecnica che era sottesa con l'immagine stessa. In realtà è passato poco tempo, sono due anni, ed oggi le immagini ne appaiono altre, ancora più straordinarie, più emozionanti per molti aspetti, che era già un'immagine potentissima, quel disco di luce con l'occhio nero al centro, era un'immagine straordinaria, ma quello che è uscito in questi giorni è ancora più straordinario, mi spiace per ripetere questi aggettivi così tante volte, ma è difficile veramente trovarne degli altri. Sono alcune immagini ad altissima risoluzione di alcuni buchi neri super massicci che ci mostrano un universo in continua trasformazione, in cui si susseguono in mani catastrofi, dove scompaiono mondi che si sbriciolano, milioni di stelle vaporizzano, scompaiono all'improvviso. E certamente l'idea di un universo molto poco stabile, ben lontano dal cielo delle stelle fiste, dalle orbite ordinate dei pianeti, insomma quell'idea che il cielo ci potesse anche rassicurare da un certo punto di vista, ci potesse dare dei riferimenti stabili. Questo sembra essere un universo pieno di caos. Alziamo gli occhi allora a questo cielo, anzi chiediamo di farlo ai nostri ospiti che sono di campi molto diversi, eppure il cielo lo guardiamo con spirito diverso, perché siamo collegati con Antonio Prete, che saluto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Che è un saggista, narratore, poeta, nonché professore alla Scuola Superiore Galileiana di Padova, titolare della Cateda di Letterature Comparate all'Università di Siena. Ricordo tra i suoi scritti il pensiero poetante, saggio su Leopardi, nonché il deserto il fiore e nel leggendo Leopardi, un donzelli del 2004. E ancora, un titolo bellissimo, il cielo nascosto, grammatica dell'interiorità, Bollati Bollingheri 2016. E con noi è anche collegato Guido Tonelli, che saluto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori di Radio 3. Guido Tonelli, che è un ricercatore al Cern di Ginevra, nonché professore all'Università di Pisa, uno dei padri della scoperta del bosone di Higgins, cioè uno di coloro che ha dato certezza al fatto che questo bosone, fino a quel momento inafferrabile, in realtà ci fosse l'ultimo libro, Tempo, il sogno di uccidere Cronos, Feltrinelli 2021. Ecco, Guido Tonelli, quelle che pubblicano i giornali sembrano delle fotografie, in realtà è qualcosa di molto più complicato. Quello che vediamo non sono delle fotografie vere e proprie, è una composizione molto più elaborata e molto più sofisticata. Come lo guardiamo noi, l'universo così lontano, il cielo più profondo, tra virgolette? Sì, diciamo, quelle che abbiamo sotto gli occhi sono immagini meravigliose ottenute non usando la luce visibile, ma usando onde radio. Sono quindi fotografie ricostruite attraverso i segnali radio, che hanno questa caratteristica di essere molto più penetranti. Nel cuore delle galassie spesso ci sono polveri nebulose ed è impossibile vedere quello che succede nel cuore di una galassia lontana perché c'è questo strato di polvere che la luce visibile non può attraversare. Ma se si usano onde radio si riesce a penetrare questo strato di nebbia e si riescono a vedere dettagli che ci fanno capire quello che succede nel cuore di queste enormi strutture stellari. E quello che si vede lascia senza fiato. si vedono fenomeni a cui non siamo abituati perché, ricordiamoci, noi abitiamo un angolo tranquillo dell'universo. La nostra galassia ha un cuore tranquillo, è occupato da un buco nero che però non ha attività significative o quantomeno non ce l'ha sui tempi per i quali lo stiamo osservando. Alla fine, ricordiamoci, noi osserviamo quello che c'è intorno a noi da poco tempo, siamo su questo pianeta da qualche milione d'anni e osserviamo quello che c'è d'intorno da qualche migliaio d'anni e abbiamo ricavato da queste osservazioni l'idea di un cosmo ordinato e tranquillo perché l'angolo da cui osserviamo l'universo intero è molto ordinato e tranquillo. Appena però vai oltre questo angolo, appena osservi mondi lontani, cosa che puoi fare con la radioastronomia moderna, ecco che in questi mondi lontani vedi catastrofe in mani e un lato dell'universo che è molto più oscuro e angoscioso di quella a cui siamo abituati. Un mondo in cui i mondi scompaiono, questo sembra essere ciò che le fotografie ci rappresentano, un mondo molto minaccioso da un certo punto di vista, Tonelli. È vero che le cose scompaiono non semplicemente si trasformano. No, diciamo, quello che si vede è che nel cuore di galassie si dice che hanno nuclei galattici attivi e cioè nel nucleo di queste galassie, al centro di queste galassie ci sono buchi neri enormi che hanno la caratteristica di assorbire tutta la materia che li circonda, quindi sono in grado di sbriciolare letteralmente, di inglobare migliaia, milioni di stelle. Basta pensare che uno di queste immagini rappresenta Hercules A, una galassia distante miliardi di anni luce da noi, al cui centro c'è un buco nero che, si presume, abbia 2,5 miliardi di masse solari, quindi un mostro enorme che si è cresciuto inghiottendo materia, quindi sbriciolando letteralmente milioni di stelle, ma nel momento che questo succede si vede che emette ai poli getti energetici di materia, di plasma, di una proporzione tale che i lobi che costruisce potrebbero contenere l'intera nostra galassia, si immagina le dimensioni di questi fenomeni. Ecco, i buchi neri da un lato inglobano materia e dall'altro emettono ai poli altra materia e quindi contribuiscono a una dinamica, a una trasformazione dell'universo. Giocano un ruolo fondamentale nella formazione delle galassie, giocano un ruolo fondamentale nella distruzione anche di milioni di stelle, ma anche espellono materiale che sarà utilizzato su tempi molto più lunghi a formare nuove stelle e nuove galassie. Accidenti! No, non mi chieda di immaginare le dimensioni di questi fenomeni perché credo di non potercela fare. Antonio Prete, quello che mi colpisce di ciò che ci racconta Guido Tonelli, che è un fisico, è che oggi la scienza guarda al cielo, all'universo, al lontano, all'ignoto, senza usare gli occhi. Non è ciò che si vede alla fine, che è importante, che ci dà conoscenza. Per certi versi mi sembra che sia quello che fanno i poeti, che guardano da sempre il cielo e l'infinito, vedendo pochissimo, ma in realtà immaginando tutto, immaginando noi stessi dentro quell'ignoto. Sì, sì, è vero. Devo dire che, ascoltando Guido Tonelli, pensavo proprio alle pagine del suo libro che ho letto in questo periodo, in questi giorni proprio, una singolare coincidenza, Tempo e il sogno di uccidere Cronos, dove appunto mi ha affascinato molto, mi ha affascinato dal punto di vista proprio della meditazione poetica, per così dire, al margine, la descrizione di un infinito doppio, cioè l'infinito che possiamo chiamare convenzionalmente spaziale, dove accadono i fenomeni che diceva prima, indicava prima Tonelli, e l'infinito rovesciato, l'infinitesimo che le particelle elementari mostrano, dove appunto anche lì, c'è un vuoto di tempo. Ecco, questa lettura a me piace, così per come e per dove posso arrivare a intendere, piace leggere qualche volta i libri dei fisici, perché trovo che nel loro margine c'è la coincidenza con l'immaginazione poetica. Cioè la poesia, come le diceva prima, ha da sempre contemplato il cielo. Contemplare è un verbo del quale Vico diceva, ma forse dell'origine, templacieli. Contemplare viene da templacieli, cioè le regioni del cielo che gli auguri dividevano, sezionavano per poi trarre gli auspici da questa lettura del cielo. Ecco, ma i poeti hanno sempre letto il cielo sia interrogandosi sul tema dell'infinito per esempio, ma sia però cercando di vedere l'altro cielo, il cielo interiore, il cielo nascosto, il cielo che è dentro di noi. E allora le domande dei poeti alla fine hanno sempre posto il tentativo di una convergenza tra il cielo interiore e il cielo esteriore. Dove sta la linea che unisce il cielo che è dentro di noi e il cielo che è sopra di noi? E fino a che punto l'uomo può arrivare a interrogare il cielo che sta sopra di noi? Fino a che punto questa interrogazione finisce nel vuoto, nel nulla, perde senso? Ecco il concetto proprio di vanitas vanitatum leopardiano, di vanità delle vanità, ma anche lo sguardo di Leopardi è sempre uno sguardo dalla lontananza, uno sguardo che per vedere, per leggere i nodi della civiltà, della cultura, dei rapporti tra gli uomini, tra i viventi, si disloca in un punto altissimo, no? Veggio in alto fiammeggiare le stelle, no? Pensiamo al notturno della sull'infinito, cioè notturno in cui i nodi di stelle, no? Diventano il punto di osservazione della terra, di una terra che scompare, di una terra che non è neppure un punto e questi luoghi e questi luoghi che sembrano nebbie, no? Che pagano a noi nebbia, questi luoghi sono invece infiniti nodi di stelle, no? Che pagano qual nebbia. Ecco, questo sguardo è un sguardo non fino a se stesso, cioè uno sguardo non è un perdersi, no? Nella contemplazione, ma è uno sguardo che permette al poeta di leggere poi quello che nella civiltà terrestre è accaduto, cioè quanto l'uomo ha negato di questo sguardo, quanto ha sopperrato, ha anche reso impossibile questo sguardo, no? E' la civiltà che ha costruito una distanza dalla natura che ha separato il vivente uomo dagli altri viventi, ha impedito all'uomo di percepirsi come vivente tra viventi, non come elemento dell'universo, mettendolo invece al centro attraverso la storia, eccetera. Questo sguardo è uno sguardo di un poeta che allo stesso tempo è un fisico, no? E Leopardi peraltro aveva fin da ragazzo un interesse poi per le scienze, no? Per le scienze naturali e anche per la fisica. E ci sono delle operette morali che sono operette dedicate proprio a questa dislocazione dello sguardo. Pensiamo al dialogo della Terra e della Luna, a Ercole e Atlante, ma anche al finale del cantico Maltotino del Gallo Silvestre, che per concludere proprio citerei le parole finali di questo cantico Maltotino del Gallo Silvestre, il Gallo che canta agli uomini che stanno per svegliarsi e finisce descrivendo l'esistenza umana, il rapporto dell'esistenza universale, finisce dicendo così questo arcano mirabile e spaventoso dell'esistenza universale, innanzi di essere dichiarato né inteso, si deleguerà e perderassi. Ecco, un'apertura su questi sconvolgimenti, no? Questi sconvolgimenti in cui si perdono i mondi. Si perdono i mondi nell'universo. Quello che diceva Tonelli prima, no? Questa attività di sconvolgimento che accade nell'universo. Continuamente, continuamente. Senza Tonelli, per fortuna noi viviamo in un angolo tranquillo. Mi viene anche da dire che se non fosse tranquillo non potremmo vivere, perché certo non ce la potremmo cavare. Però sembra quasi che questo cielo ci assomigli, verrebbe da dire. Cioè, le tante incertezze che sono quelle del nostro tempo, in cui ci sono persi tanti riferimenti, sembra che si riflettano in questo cielo che si rinnova, si rigenera continuamente. Sembra un universo che rimetti in discussione, se non le proprie leggi, sicuramente le proprie ordine, le proprie norme. Sì, diciamo, come spesso succede, no? La nostra visione del mondo, e per costruire una visione del mondo bisogna superare quello che ci dicono, ci dice la vista, no? Paradossalmente. Le cose che vediamo spesso sono false, no? Se noi vediamo ogni giorno che il sole gira intorno alla Terra, ma sappiamo che questo non è vero, dobbiamo fare ricorso per capire cosa succede all'immaginazione, no? L'immaginazione è uno strumento potentissimo che usano gli scienziati per dar conto e per capire fenomeni che avvengono in ambiti così distanti dalla nostra vita ordinaria, per cui la materia o le grandi galassie hanno comportamenti estremamente bizzarri, no? Lo spazio-tempo è un tutt'uno, è plastico, si deforma, ci sono oggetti come i buchi neri in cui il tempo si ferma, cioè avvengono fenomeni inauditi, no? Che non fanno parte della nostra esperienza quotidiana, giusto appunto nel nostro angolino microscopico, tranquillo e ordinato, non vediamo mai cose di questo tipo, ma per capire come si comporta la materia nelle minime distanze subnucleari o nelle grandi distanze cosmiche dobbiamo abbandonare ogni forma di arroganza e adottare strumenti e paradigmi che sono molto diversi da quelli che usiamo nella vita quotidiana. In questo mondo l'immaginazione è fondamentale e qui diciamo noi vediamo oggi attraverso le immagini ricostruite con strumenti di radiotelescopi e l'immaginazione con cui costruiamo modelli per spiegare queste immagini, costruiamo una visione del mondo che è molto, in cui diciamo caos e cosmo si intrecciano, sono molto intrecciati fra di loro, non sono due opposti, sono due aspetti della stessa realtà e per certi versi questa nuova visione del mondo in cui caos e cosmo giocano a rimpiattino, si alternano e si inseguono, assomiglia piuttosto pesantemente a un mondo contemporaneo, a un io contemporaneo in cui abbiamo scoperto identità multiche, abbiamo scoperto contraddizioni, abbiamo un mondo anche di contrasti, è come se ci fosse uno specchio, per certi versi c'è un dialogo fra questa nuova visione del mondo, la visione dell'universo moderno che la scienza ci sta suggerendo e la riflessione su quelli che sono i nostri rapporti, i nostri rapporti di uomini e donne che occupano questo pianeta, è tutto più complesso, tutto più contrastato, forse si può trovare un equilibrio, ma l'equilibrio non nasce da una pacificazione, ma forse nasce da contrasti che sono capiti, che sono compresi, che sono gestiti in qualche modo. C'è sempre stata una relazione tra l'immagine del mondo e il progresso che il scientifico la produce e un certo impatto culturale di questa immagine del mondo e oggi ho l'impressione che stiamo vivendo ancora uno di questi momenti. Eh sì, era proprio questo che in qualche minura avevo anch'io in mente, mi sembra che ciò che andiamo trovando assomiglia a ciò che abbiamo intorno a noi o diciamo che quello che vediamo lontano lo usiamo poi come modello anche per quello che ci circonda. Ma insomma, queste corrispondenze tra il pensiero della scienza e il pensiero della poesia sono notevoli. Antonio Prete, il pensiero scientifico lavora tante volte con un ragionamento che si lavora per assurdo. Sembra quasi che la poesia faccia un po' quello nell'andare lontano da sé, da noi e riguardarci appunto dagli astri d'ardeggianti, dalle stelle, dall'infinito. In realtà sono dei viaggi per finta, tra virgolette, dei viaggi della fantasia. Non ci muoviamo da noi, stiamo in noi. Certo, la poesia in qualche modo esplora sempre qualcosa che non c'è. Si muove sul confine tra il visibile e l'invisibile, come fa del resto la scienza. In questo senso c'è un dialogare a distanza, magari con linguaggi diversi, ma un dialogare fitto tra il sapere della poesia e il sapere delle scienze, in particolare in questo caso della fisica, che è il sapere della natura poi, della fisica. La poesia spesso ha avuto dei momenti in cui ha cercato di muoversi sulla linea di una contiguità tra quel sapere della la fisica, quel sapere di sé, dell'uomo. Pensiamo da Lucrezio in poi c'è proprio una linea di ricerca poetica che attraversa tutte le culture, tutte le lingue, è una linea di ricerca poetica dove lo sguardo su di sé si mette in relazione con lo sguardo sull'universo e l'uomo può capire qualcosa di sé se si pensa nell'universo. Se invece abbandona, compie una rimozione del suo rapporto con l'universo, è chiaro che poi si trova implicato in alcuni nodi che finiscono con non far conoscere niente di sé. E quindi la poesia è conoscenza in questo senso. Ecco, la poesia si muove anche nel mondo della possibilità, appunto l'immaginazione. Esplorere dei mondi possibili, per esempio mi ha sempre colpito una definizione della poesia del giovane Baudelaire, diceva la poesia è quel che c'è di più reale, lo faceva in polemica con quelli che difendevano il realismo, in una polemica, in una forma di ironia. E la poesia è quel che c'è di più reale, essa è completamente vera soltanto in un altro mondo, in un altro mondo. Cioè la poesia cerca la sua propria certificazione, il suo punto di verità, per così dire, in un altro mondo, cioè in quello che apparentemente non esiste, non è riducibile al visibile, al reale, al confinato qui e ora. Ecco, naturalmente per fare questo la poesia usa il linguaggio, un linguaggio particolare che è il linguaggio dell'immaginazione, fatto anche che la materia è il suono, il ritmo e la sonorità sono le forme, perché la poesia è anche costruzione, costruzione artistica e quindi in questo senso implica una fizzia, un'operazione anche col linguaggio e sul linguaggio. Eh no, potentissima. La poesia smonta, tra virgolette, il mondo normale, sensibile che conosciamo e ce ne offre un altro, ce ne costruisce un altro in cui quella materia riappare nuova e trasfigurata e così facendo ci fa vedere la nostra realtà con occhi nuovi, così come sembrano fare i buchi neri, devo dire che il mio stupore è grande pensando che i buchi neri per un verso assorbono tutto quello che hanno intorno, ma poi ai loro poli espellono questi getti straordinari di materia che formeranno altri universi. Però la Guido Mottonelli mi certifica, è così, questo fanno i buchi neri, assorbono e poi espellono. Posso però dire una cosa sulla poesia che mi è piaciuto moltissimo, sono d'accordo che la poesia è reale, mi piace quella definizione, proprio perché nell'arte tutto è ridotto all'essenza, cioè non c'è amore più reale di quello di Romeo e Giulietta, che è un amore finto, portato sulla scena. Quando porti sulla scena qualcosa è come se tu distillassi quei sentimenti o la tragedia di Edipo. E in questo mi piace questa cosa, come mi piace l'idea che se non metti ordine al di fuori di te, cioè se non ti dai una ragione dell'universo che ti circonda, non potrai mai mettere ordine all'interno di te. Perché due successioni le trovo non solo molto corrette sul piano del pensiero e concettuali, ma anche molto vicine al lavoro che facciamo noi scienziali. Eh sì sì, e saranno anche solo delle teorie astratte, quelle che vengono racchiuse dentro i modelli, ma cosa c'è di più vero che soio della relatività di Einstein, che era solo un modello ma che poi alla fine giorno per giorno si va verificando, no? Tra virgolette sul campo, sul campo della materia e del reale, del sensibile. Ma insomma abbiamo aperto una finestra che è veramente infinita. Io ringrazio moltissimo sia Guido Tonelli che Antonio Prete per aver avuto anche un po' il coraggio di guardare in questa prospettiva vertiginosa che si apre intorno e sopra di noi. Grazie, grazie a Guido Tonelli, grazie a tutti. Grazie, grazie a voi.